svegliamo la seconda strategia. Seconda carta Riccardo, invece una carta rossa e questa volta andiamo in controtendenza a quello che è stato il trade di Nicola, quindi uno short sul cambio euro-dollaro. Principalmente le motivazioni sono... Interessante questo perché ci permette appunto di mettervi uno contro davvero 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 interessante, è bello quando sul campo si verifica questo, dimmi le motivazioni e anche i livelli. Guarda, le motivazioni sono molto semplici, abbiamo comunque visto, e storicamente è sempre stato così, due valute a velocità differente, abbiamo comunque assistito a un aumento del tasso di interesse che verrà prima del previsto per quanto riguarda l'America, invece vediamo comunque un euro molto più debole, infatti abbiamo anche visto dai recenti dati macro, nonostante comunque i dati sul sentiment tedesco siano stati molto positivi, comunque abbiamo visto un rallentamento a luglio, quindi sostanzialmente andiamo a sfruttare proprio la debolezza dell'euro contro il dollaro. Dal punto di vista tecnico, infatti se andiamo a guardare il grafico, anche con un time frame daily, è molto semplice notare proprio la rottura di un supporto a 1,1850, quindi noi sostanzialmente cosa andiamo a fare? Andiamo a sfruttare proprio questa violazione di questo supporto che anche storicamente, e mi riferisco comunque a diciamo gli inizi di marzo, quindi il 5 di marzo, è stato un supporto molto molto interessante che ha aiutato anche il cambio a godere di comunque di rialzi notevoli. Quindi andiamo a posizionarci a ribasso sostanzialmente a 1,1850, quindi andremo a sfruttare quello che potrebbe essere un pullback dai livelli attuali, quindi dei minimi delle giornate precedenti, andiamo poi a impostare uno stop loss a 1,19 e uno stop loss che comunque va al di sopra dei massimi di giornata, quindi dai livelli operativi è comunque possibile vedere che il trade è un trade di brevissimo periodo e il rapporto rischio rendimento è superiore comunque all'unità, infatti il target è posizionato a 1,17,2. 1,17,2 è comunque un livello che secondo me è molto significativo per cercare di andare a individuare futuri acquisti, futuro un ritorno insomma agli acquisti sul cambio dell'euro dollaro, perché già come possiamo anche notare a fine marzo, inizio aprile, è stato un livello molto importante che è stato attenzionato. Da questo livello l'euro dollaro ha raggiunto i massimi a 1,22,5, quindi è probabile che a 1,17,2 possiamo andare a chiudere la nostra operazione al ribasso.